Siamo a Lago Mezzetta, che è situato a Trezzano sul Naviglio, nella zona del Parco Agricolo Sud Milano, è un luogo molto ricco di biodiversità ed è un luogo che è stato recuperato attraverso un campo di lavoro che ha coinvolto adulti e piccini, tantissimi volontari e che ha coinvolto diverse associazioni della zona, la Casa della Pace di Milano, il Parco Sud Milano, le poli sportive e innanzitutto il Lago Mezzetta è stato dato in comodato in luogo privato, ma è stato dato in comodato in uso a Salva Ambiente, che è l'associazione di Trezzano sul Naviglio, che ha promosso questa bellissima iniziativa e che ci ha permesso di recuperare un bene comune attraverso l'opera di un lavoro volontario che ha visto la partecipazione di un centinaio di volontari che ha lavorato qui nell'ultima settimana e oggi c'è stata l'inaugurazione dell'area verde con una serie di iniziative, come anche la fruizione del lago attraverso le canoe messe a disposizione da una poli sportiva di Trezzano sul Naviglio. Un'altra realtà che ha partecipato quotidianamente all'attività di recupero dell'area di questo luogo è stata Rimaforo, la fabbrica recuperata di Trezzano sul Naviglio, che ha visto la partecipazione di diversi lavoratori della fabbrica che hanno potuto così contribuire al recupero dell'area. Grazie. 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 Grazie.